bene ragazzi siamo qua tornati un nuovo video oggi partita napoli spartac mosca partita di europa league comunque ragazzi prima di andare a vedere il primo tempo di napoli spartac mosca andare a vedere le formazioni ufficiali su sofascore che vi lascio primo link in descrizione miglior app del calcio per tutte le news e per le formazioni prima della partita raga scaricate sova scorre allora alle formazioni del napoli stasera allora per il napoli gioca meret di lorenzo manolas culibali mare lui zirischi fabia roots elmas insigne paetania e politano questo degli undici del napoli ha messo paetania in attacco posti osimen eppure meret apposito spina niente dove c'è la prima tempo di napoli spartac mosca e speriamo di vincere questa partita dai 13 secondi elmas benissimo molto insidioso che cosa ha fatto il mascarina una zona nuova uno tiro tiro vediamo dai vediamo che ti no no dai no no dai tu che fa roto come rosso come fai ad essere rosso come fai ad essere rosso non può essere rosso è giocato sì ma dai ma rosso dove dai 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 ragazzi c'è qua il primo tempo del napoli 1 a 0 partita accesa abbiamo fatto un gol in 13 secondi con elmas partita poi stranissima con tantissimi falli però ragazzi non è la rigore alla fine veramente si era buttato lui a terra parti scherzi adesso vabbè noi siamo al secondo tempo ciao 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 Per altri gol, dai, più di uno, facciamo il secondo Ragazzi, in questo secondo tempo di Napoli-Spartac-Mossa Dai ragazzi, la Mossa entra e anche Osment, dai Nooo Dai, no, dai No, dai, regà Sto facendo male Sto facendo male Non si fa, non si fa Non si fa Dai, regà, non è quello che abbiamo visto Un a uno Sto facendo male Dai, dai, il rosso Dai Dai, ma lui, il rosso, questo è Giamme, dai 1 a 2 Mano, ass ok come è? come è? dai no dai dai mamma mia stavo completando quest'anno stasera dai 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 che stupo come si fa? no stiamo facendo ridere dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai 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 ragazzi vince qua la partita del Napoli vince qua la partita del Napoli anche la reaction comunque partita brutta abbiamo iniziato bene il primo tempo poi dal fallo di Mario Rui è successo abbiamo subito i gol e niente ragazzi comunque noi c'è una partita di Fiorentina Napoli partita tosta andiamo a giocare a Firenze comunque speriamo di vincere almeno il campionato quest'anno anche se non è facilissimo però l'anno c'è la mezza della roba di più veramente abbiamo giocato la partita con una scuola non difficile tra virgolette però ragazzi speriamo di fare qualcosa bene in campionato noi c'è la prossima reaction e comunque lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale niente ragazzi c'è il prossimo video ciao ragazzi grazie